Banca Etruria non stava più in piedi, anzi di fatto non esisteva più come istituto di credito autonomo. Questa, in estrema sintesi, la testimonianza resa questa mattina in aula da Giordano Di Veglia, protagonista dell'ultima ispezione di Banca Italia, quella iniziata nel novembre 2014, poi andata avanti oltre il commissariamento. Questa mattina si è infatti tornati in aula per il processo per la bancarotta dell'istituto di credito a retino. Di Veglia in aula ha spiegato che la banca aveva crediti deteriorati per il 42% dell'attivo, una percentuale unica e non solo in Italia. Si passa da una banca che era operativa ad una banca che appunto va verso una procedura che ha caratteristiche liquidatorie e naturalmente fa un bilancio che ha caratteristiche liquidatorie, quindi rivede tutti i crediti, svaluta tutti i crediti e li apposta in modo assolutamente diverso. Di Veglia ha poi ribadito anche l'esistenza di un comitato informale che riunendosi prima del consiglio di amministrazione determinava di fatto le scelte di quest'ultimo. Ne facevano parte il presidente Fornasari sino a che è rimasto in carica e i suoi due vice Inghierami e Guerrini. C'era poi sempre per l'ispettore di Banca Italia un altro comitato informale composto in questo caso dall'ultimo presidente Rosi, dai suoi vice Berni e Boschi nonché da Sant'Anastaso e Nataloni. Il comitato aveva condotto la trattativa fallita con Vicenza. È poi toccato ad un altro testimone dell'accusa il tenente colonnello Peppino Abruzzese, coordinatore del gruppo di investigatori della Guardia di Finanza che hanno condotto le indagini. Abruzzese ha spiegato le origini dell'inchiesta iniziata nel 2016 quando fu aperto dalla procura di Arezzo il cosiddetto fascicolo madre dal quale hanno poi preso origine tutti gli altri filoni. Anche lui in aula ha sottolineato l'esistenza di un comitato informale che precedeva i consigli di amministrazione e del comitato per la trattativa con Vicenza. Il colonnello ha poi snocciolato le operazioni oggetto delle singole contestazioni di banca rotta e le cifre che la banca vi ha perso. La prossima udienza è stata fissata per venerdì 8 novembre. Saranno ascoltati coloro che hanno fatto le indagini sul capo di imputazione che riguarda Privilege Yard, la famosa nave in sostanza, quindi sarà un'udienza dedicata a quel capo di imputazione con i testi che sono stati citati dalla procura per quel capo di imputazione.